dell'emancipazione civile degli israeliti asterisco 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 produced by Enrico Segre and the online distributed proofreading team at http2.i barra barra www.pgdp.net sull'emancipazione civile degli israeliti di Massimo D'Azzeglio prezzo una lira italiana dell'emancipazione civile degli israeliti di Massimo D'Azzeglio di chi è il nostro prossimo r tutti gli uomini del mondo anche quelli che non sono né cattolici né cristiani di per qual motivo dobbiamo amare tutti gli uomini del mondo ancorché fossero turchi, ebrei e che carri perché Dio ce lo comanda perché tutti sono creature ragionevoli fatte a immagine di Dio Dottrina cristiana ad uso della Diocesi di Torino Firenze Felice Lemonnier 1848 A mio fratello Roberto Tu ti adopri in Piemonte onde ottenere l'emancipazione degli israeliti scopo a cui tende questo mio opuscolo M è caro perciò porvi in fronte il tuo nome già benedetto da altri dereliti ed altrettanto lo tengo a felice presagio siccome ad avverarlo non verrà meno certamente l'opera tua possa così concorrervi quella più potente dei principi italiani che già ha in posto mano ad abbattere altre non meno anticristiane ingiustizie Tuo di cuore Massimo D'Azzeglio Roma, 8 decembre 1847 Pensieri preliminari Io interrogo il mio lettore sia egli debole o potente grande o piccolo principe o suddito cattolico o protestante e dico crede egli vero o falso utile o dannoso all'umana società il precetto di carità universale d'amor del prossimo racchiuso nell'epigrafe che ho posta in fronte del presente opuscolo Se lo crede falso e dannoso chiuda il mio libretto non ho altro da aggiungere Se lo crede utile e vero gli domando se gli è avviso che questo precetto nel modo stesso che è insegnato dal Vangelo ed accettato ugualmente dalla fede e dalla ragione sia stato preso per norma né 18 secoli che conta il cristianesimo dai legislatori dai principi dai potenti dalle moltitudini da quanti infine ebbero o si tolsero potestà di scriver leggi e stabilire ordini che reggessero l'umana famiglia La carità, l'amor del prossimo il non fare agli altri quel che non si vorrebbe fosse fatto a noi primo fra i precetti dei popoli cristiani dopo quello che si riferisce alla divinità a esso esistito ed esiste in parole o è applicato ai fatti e se più che altrimenti esistesse in parole quali ne sono le cause quali le conseguenze e se queste conseguenze fossero tristi e dolorose per tutti non è gli ugualmente dovere ed interesse di tutti il cercare di sottrarvisi combattendo le loro cause Queste interrogazioni che dirigo al lettore le ho fatte soventi volte a me medesimo e guardando al passato e dal presente alle leggi alle consuetudini agli usi della civiltà cristiana in tutta la sua durata e me è sembrato trovarvi una frequente e flagrante violazione del suo principio di vederla travagliarsi soffrire lacerarsi ed andare a rischio di perdersi per un sillogismo falsato del quale la maggiore e la minore non avea anche fare praticamente con la conseguenza e lasciando molti altri casi che non fanno alla questione che intendo trattare ho trovato a cagion d'esempio che sul fatto degli israeliti la civiltà cristiana faceva questo strano sillogismo La fede cristiana mi ordina di amare senza distinzione tutti gli uomini Gli ebrei sono uomini Dunque io li odio li perseguito e li tormento Lo scopo del breve scritto che offro al pubblico è diretto a cooperare per quanto me lo concedono le mie povere forze alla restaurazione del detto sillogismo a rimetterne i termini nella loro vera e razionale relazione Non avendo potestà di far molto mi è sembrato dovere ladoprarmi almeno come potevo onde fra le tante applicazioni che rimangono a farsi del principio cristiano si venisse intanto a questa Quanto alle altre facciamoci animo le menti ed i cuori vengono ogni di più sentendone l'importanza e il bisogno La civiltà cristiana presenta nell'asso degli ultimi cent'anni un fatto che apre il campo a gravi meditazioni Nell'ultima metà del secolo scorso essa parve rinnegare in massa il suo principio e mettersi incerta ed anelante in traccia di principi gerie nuovi La rivoluzione le sue guerre quelle di Napoleone l'abuso della vittoria che l'avea prostrato il dispotismo senza esempio stabilito dai vincitori la reazione ora aperta ora segreta e sempre travagliosa dei popoli un malessere un'irritazione generale ecco ciò che essa trovava sotto fallaci apparenze d'una civiltà superficiale non era forse mai stato tempo in cui la politica avesse più intimamente rinnegato il principio cristiano ma la dura lezione non è stata senza frutto sembra che la società si venga avvedendo che il mondo morale come il materiale è retto da grandi ed elementari leggi e che in esse soltanto può trovare ordine e riposo che il travagliarsi per trovare modi di reggimento istituzioni sistemi e è opera gettata se gli uomini non si convincono dell'importanza ed utilità di dette leggi e non le seguono e fra queste la prima è quella della carità e dell'amor del prossimo questo convincimento già trionfa nella teoria quindi la tendenza alla restituzione delle nazionalità perché una nazione non deve imporre ad un'altra quel gioco che non vorrebbe per esse è quindi lo sviluppo del principio del diritto comune le istituzioni le leggi d'uguaglianza civile perché un principe non deve torre ad altri il suo diritto come non amerebbe che gli fosse tolto il suo e che caccettato sinceramente il principio in teoria si può argomentare che non sai a molto discosti della sua applicazione affrettiamola coi voti e con l'opera e noi cristiani intanto che ci travagliamo onde a tener giustizia per noi rendiamola agli altri e non tormentiamo gl israeliti come non vorremmo esser noi tormentati ed oppressi a chi sorridendo e me interrogasse se io intendo rifare il catechismo pe fanciulli io risponderei che se mi bastassero le forze vorrei non tanto far questo quanto trovar modo onde quel catechismo che gli uomini appresero quando eran fanciulli lo rammentassero talvolta all'orce fatti adulti vi è loro data potestà di promulgarle agi e farle eseguire e sta in essi il condurre gli uomini alla felicità come l'immergerli nella sventura l'emancipazione degli israeliti il termine di quella lunga e dolorosa serie di patimenti d'oltraggi ed ingiustizie che ebbero a soffrire per tanti secoli non in vista del principio cristiano ma invece con la manifesta sua violazione in conseguenza della cecità dei pregiudizi dell'ignoranza e talvolta purtroppo in virtù di cause alle quali una scusa è ancor più irreperibile l'emancipazione degli israeliti è un fatto oramai incominciato e che per la condizione dei tempi si può virtualmente tener per compiuto a Pio IX era asserbata questa santa e sapiente manifestazione di giustizia e di carità che si deve certamente annoverare fra i più importanti e benefici atti del suo pontificato come quello che consacra il principio atto più d'ogni altro a mantenere la concordia e la pace tra gli uomini e condurre al trionfo della verità il principio della tolleranza la tolleranza come tutte le massime vere utili e sante ha avuto ed ha purtroppo ancora i suoi oppugnatori perché essa non serve nella superbia negli odgerie nella violenza nella cupidigia e toglie anzi agli uomini il poter dare sfogo a questi loro perversi appetiti e coloro che appunto vollero aver piena libertà di sfogarli conobbero non aver altro modo onde coonestarli e nasconderne la bruttezza se non col coonestare le loro passioni con l'apparenza dell'amore del vero e dello zelo per la religione e professare l'intolleranza e questi furono tra i nemici della tolleranza i più perversi altri ve ne furono di meno perversi e forse talvolta tanto è inscrutabile l'umana coscienza incolpabili quelli dico che opprimendo perseguitando ed usando violenza a chi nella fede e nel culto dissentisse da loro non lo fecero per nessuna rea passione ma per la falsa opinione che fosse questa la miglior via onde procurare il trionfo ed il regno delle loro opinioni e della verità ed opera meritoria e grata all'onnipotente il punire coloro che non la professassero gli uni e gli altri poi combatterono i loro avversari amici e culturi della tolleranza con la cosa d'essere o nemici o indifferenti alla fede che pure apparentemente professavano ed ebbero spesso sovressi il vantaggio che procura presso le moltitudini una fervente e clamorosa espressione di zelo per le cose più sante ed auguste e spesso li ridussero a ritirarsi dal campo e tacere per il timore d'essere creduti appunto nemici o indifferenti a queste sante ed auguste cose ciò è accaduto sempre in tutte le età tanto nelle cose sacre come nelle prafein nelle religioni nelle sette nelle scuole nelle parti politiche ed ha ottenebrato il mondo di calamità infinite a coloro che conestano l'intolleranza col pretesto di zelo per la religione guidati da interessi e passioni private col fine d'ottener potenza o ricchezza ad una setta o rendere prepotente un partito è inutile addurre ragionamenti codesti motivi hanno radice nella perversità del cuore e da ciò le ragioni non possono rimediare a quelli invece che sono intolleranti per difetto di raziocinio conservando tuttavia qr retto e virtuose intenzioni non è difficile dimostrare che essi sono in errore e che quest'errore li conduce inevitabilmente al termine opposto a quello cui tendono i loro disegni la tolleranza può essere applicata in due modi o alle opinioni o agli uomini che la professano la tolleranza applicata alle opinioni è giusta e razionale ove queste siano non pienamente fondate sopra una certezza e perciò disputabile ove invece si tratti d'opinioni certe o tenute per tali e perciò incapaci di controversia la tolleranza non tanto non è conveniente ma sarebbe la cosa più irrazionale del mondo sarebbe sciocchezza e puerilità chi mai per cagion d'esempio potrebbe per quanto professasse la tolleranza applicarla ad un conteggio aritmetico e se si pretendesse che un abile computista dopo aver fissata la cifra finale che risulta da un conto esatto ammettesse che è cosa indifferente l'aggiungervi o il sottrarne una sola unità non sarebbe stravaganza o pazzia e non sarebbe dall'altro canto uguale stravaganza o pazzia il pretendere che intorno a tante questioni non definite ne dimostrate ancora circa il mondo materiale ed il metafisico altri dovesse irremissibilmente seguire la nostra opinione circa le opinioni dunque o indubitatamente certe o che un profondo e sincero convincimento ci fa considerare come tali la tolleranza è irrazionale ripugnante ed assurda ma per quello che spetta agli uomini che le professano la tolleranza è stretto dovere di giustizia e condizione indispensabile al trionfo della verità siccome al contrario l'intolleranza è assolutamente ingiusta e mantenitrice ostinata dell'errore la tolleranza è dovere di stretta giustizia perché non è concesso a nessun occhio umano lo scrutare l'intimo del cuore e della coscienza dell'altro uomo pesarne le virtù e le colpe giudicarne gli effetti conoscerne le forze e le reticenze g. le impulsi e le inerzie definire dove se quanto e sino a che punto operino i pregiudizi le sensazioni le idee preconcette fonti di ignoranza invincibile e dove invece incominci l'azione delle passioni degli affetti interessati della resistenza volontaria calcolata e viziosa alle manifestazioni dell'intelletto e della ragione fonti d'un'ignoranza o d'una negazione colpevole non essendo dunque dato agli uomini di far questa distinzione né di conoscere perciò la colpa o il grado di colpa in che sia caduto chi che sia in materia d'opinioni non possono aver modo né regola per conoscere se meriti punizione ed in qual grado la meriti da ciò ne viene per necessaria conseguenza che ogni qual volta oltraggiano tormentano o contristano in qualsivoglia modo gli uomini per il solo motivo delle loro opinioni o sono assolutamente ingiusti e crudeli se codesti uomini al cospetto di dio e della propria coscienza non sono colpevoli ove poi tali realmente fossero sono ingiusti e crudeli ugualmente perché il dare un gastigo alla cieca senza avere un criterio certo per poter conoscerne l'opportunità e la misura è non minore né meno pericolosa ingiustizia se queste deduzioni sono vere e quanto a me le tengo per irrecusabili ne nasce la necessaria conseguenza che al solo occhio divino essendo chiari ed aperti i misteri del cuore umano al dio solo è riservato il giudizio la punizione o la ricompensa in fatto di credenza egli solo saprà giudicare se fu sincera o finta virtuosa o colpevole la sua fede e pel contrario che ogni qualvolta gli uomini vogliono esercitare l'ufficio riservato e possibile al solo il dio e farsi interpreti del suo giudizio usurpano un'autorità che non hanno occupano e violano i diritti degli altri uomini e questo modo d'agire che con un solo vocabolo viene detto intolleranza è assolutamente contrario alla giustizia agli esempi e dai comandamenti di Gesù Cristo e conducente non al trionfo del vero ma all'ostinata diuturnità dell'errore eppure questo è precisamente il modo tenuto da secoli con gli israeliti non dirò la nostra vergogna perché la generazione presente lo detesta generalmente oramai e pio nono con quella sapienza resa cotanto vigile ed operosa dalla carità evangelica che lo infiamma lo ha solennemente condannato stendendo la mano a quei poveri afflitti come l'ha stesa a tanti altri ma ha vergogna certamente delle generazioni passate che così crudelmente ed ostinatamente lo tennero per quanto l'oppressione del popolo di israele sia fatto noto ed incontestato per quanto l'universale abborra oggi di dalle antiche sevizie non è tuttavia fuor di proposito il farne conoscere brevemente alcuni particolari ignorati per avventura dai più e dando uno sguardo alla dolorosa storia dei loro patimenti mostrare quale sia stata la loro condizione sino al momento presente e non credo necessario entrare nella narrazione di fatti anteriori all'epoca delle crociate basterà l'accennare che sin dai tempi degli imperatori vennero spesso avvolti gli israeliti nelle persecuzioni medesime dei cristiani ed ebbero al paro di essi ad incontrare le torture e la morte quando poi l'europa uscì da quello stadio che comprende l'invasione dei barbari ed il dominio delle prime dinastie dei loro re stadio nel quale l'umana società era scesa al punto più basso al quale forse potesse arrivare essendosi addensate allora più che in vero un altro tempo le tenebre dell'ignoranza e dilatato in ogni parte il regno della violenza la piena dell'iniquità e dei più atroci delitti uscita dico l'europa da quest'epoca funesta parve sentisse generalmente il bisogno d'una grande espiazione d'una penitenza dura e travagliosa non inferiore al cumulo dei delitti commessi che pesasse ugualmente su tutta la vivente generazione e l'europa soffriva spontanea alle due più gravi pene che si conoscano l'esilio e la morte e presa la croce si muoveva verso oriente ma quel sentimento bollente di rimorso e di pentimento quel grande atto di fede di tanti popoli ebbe un carattere rozzo ed anzi feroce come gli uomini e l'età che lo professava non si stimò poter fare abbastanza in onore di Cristo e della sua religione né in esterminio e vituperio di tutti i suoi nemici e si incominciò dai più vicini e che meno si potevano difendere dagli israeliti e quasi ogni partenza di crociati ebbe a funesto preludio una popolare e tumultuaria strage di quagli infelici la causa medesima produsse effetti purtroppo simili ed ugualmente atroci anche fuori dell'occasione delle crociate la Francia la Germania la Spagna il Portogallo l'Inghilterra la Polonia la Prascia la Bohemia in diversi tempi ebbero le loro proscrizioni ed il sangue degli israeliti fu sparso in onta del nome e del principio cristiano memorabili rimasero le stragi del 1096, 1146, 1306, 1389 alle quali sempre andarono unite taglie, espulsioni violente, ed ogni maniera di persecuzione l'Italia, culla di civiltà, sede di cultura, d'industria ed ogni bella arte nel medioevo ebbe in che i remoti secoli menrozzo e feroce costume e quindi non si macchiava, o in minor grado, delle crudeltà sopradvette e le pagine della sua storia non vengono, salvo rare eccezioni, attristate dal racconto di stragi di israeliti bensì da molti i suoi stati vennero banditi, posciari ammessi in Napoli soltanto il bando non ebbe nerevoca né fine Roma, che generalmente fu pur la più mite delle città italiane verso gl israeliti ne fece tuttavia uccisione nel 1321 ma il popolo, non i papi, ne furono autori sedeva in Avignone Giovanni XXI il quale, ad esempio di San Gregorio Magno Innocenzo III, Innocenzo IV, Alessandro II, Alessandro III, Donorio III ed Urbano V scrisse e sadò però in favor degli ebrei manomessi vilipesi, taglieggiati e straziati generalmente allora da principi e da popoli altrettanta benignità usò con gli israeliti, un secolo di poi, Martino V ma la persecuzione violenta della spada e del fuoco dona spesso, e non toglie, vigore ed energia alle nazioni, bensì toglie ad esse queste nobili qualità l'astuta ed abietta persecuzione della corruzione lenta e della vessazione continua ed oscura che dissecca ogni fonte di vita tronca i nervi d'ogni virtù contamina onde aver pretesto di calpestare e toglie così alle sue vittime non solo la difesa ma persino il compianto dico tali persecuzioni ne offrirono esempi e ne provarono gli effetti anche popoli non circoncisi le progressive modificazioni di quello di israele del suo costume dell'insieme delle sue condizioni sociali servon di prova alle suddette verità avvolto nelle sanguinose vicende che abbiamo accennate nel medioevo straziato proscritto cacciato di terra in terra come un greggio immondo si temprava al fuoco della persecuzione non perdeva anzi fecondava e nutriva nel suo seno il germe delle scienze delle arti e di ogni sapere la filosofia l'astronomia la medicina la matematica ebbero fragile israeliti ardenti seguaci e lo spazio compreso tra l'undicesimo ed il sedicesimo secolo fu per essi l'epoca più luminosa della scienza e della letteratura in ispagna fiorirono sommi ingegni di codesta nazione ed ebbe scrittori siccome nota ritar nella sua storia i quali furono parte importante degli studi filosofici del medioevo le famose tavole alfonsine ebbero per autori dotti israeliti molti di loro per lunga serie furono archiattri pontificgerie ed altri adoperati da vari principi in cose di stato ed in ambascerie fra quali l'esule a barbanel dotto e nominato scrittore corrisposero all'accordata fiducia con retto operare ed intemerata fede il regno di ferdinando ed isabella durante il quale fu decisa in ispagna la lotta ostinata che da tanti secoli durava tra l'islamismo e la cristianità vide la maggiore e la più tremenda di quante calamità avessero percosso il popolo di israele il grande inquisitore cardinal torquemada imprese e condusse a fine l'enorme fatto di strappare 150.000 famiglie circa 80,000 individui alla terra ovverannate e vissute e cacciarle all'avventura fuor de confini del regno e ciò col breve termine di tre mesi senza concedere a quegli sbanditi di portar con loro oro né argento fu veduto in quell'occasione darsi una casa per un giumento una vigna per una misura di panno o di tela ed un tanto numero di infelici spogliati d'ogni bene si sparse per i regni d'Europa ove l'attendevano non men dure fortune parte veleggiò per Italia giunti a Genova fu loro appena concesso di sbarcare al molo e di vi rimanere molti vi perirono di stento e di fame altri, confidatisi a scellerati padroni di nave che piuttosto si mostrarono poi assassini o pirati vennero traviati a spiagge lontane e venduti come schiavi alcuni furono lasciati nudi sopra ari di scogli e di più preferendo una pronta fine alla lenta agonia che li aspettava si sommersero volontargele nel mare quegli israeliti invece che per sottrarsi o l'esilio e da tutti i mali suddetti aveano abbracciata la religione cristiana erano vigilati dalle spie dell'inquisizione e dove cadessero in sospetto di giudaizzare tratti nelle carceri del tremendo tribunale ognuno sa dei suoi roghi e dei suoi tormenti ma non sanno tutti che in quel tempo si giunse a Siviglia persino a violare la santità dei sepolcri col pretesto di disperdere anche le ceneri degli israeliti e col fine di rubare quanto di prezioso era stato sepolto coi loro cadaveri l'agitazione religiosa del secolo XVI che tanti mali addusse all'Europa cristiana fu cagione agli israeliti di nuove e non minori sventure persecuzioni e decidi li colpirono negli anni 1541 1554 1559 1574 né il susseguente secolo sorse ad essi più mite ma gli anni 1614 23 34 48 53 ricondussero su loro rinnovate le medesime crudeltà sino a un'età assai vicina alla nostra al cominciare del secolo scorso occorsero esempi di persecuzione brutale e violenta e sotto il regno di carlo primo di borbone quegli israeliti che senza formar corpo o società separata trovavansi in napoli ne furono per decreto del re interamente sbanditi secondo con questo fatto si poneva finalmente un termine alla violenta persecuzione informata della ferocia del medioevo ma ne sottentrava un'altra più o meno aperta ed ostile secondo il diverso carattere degli stati e dei governi europei persecuzione come abbiamo osservato assai più fatale ad un popolo e più efficace a condurlo ad una morale e materiale di soluzione questa persecuzione non è però generale ora in europa ed anzi è quasi cancellata dalle leggi e dalle tradizioni popolari in molti stati in inghilterra gl israeliti hanno superato ormai ogni difficoltà essi ottennero la facoltà di venire nominati alla carica da alderman e di scerifo e la pienezza del diritto municipale il primo collegio elettorale del regno ha ora presentato uno di loro alla camera dei comuni fatto gravissimo se si consideri il vincolo che stringe la chiesa stabilita col potere sovrano l'olanda appena sottrattassi alla dura dominazione spagnola era stata agli israeliti larga dei suoi favori mentre ancora durava nel resto d'europa la loro oppressione ottennero quivi gradi uffici e titoli di nobiltà e all'occasione si mostrarono buoni cittadini ponendo le sostanze e la vita in difesa di quella terra che tanto s'era loro mostrata ospitale il nuovo regno dei paesi bassi si attenne riguardo ad essi alla medesima politica in Francia dalla rivoluzione in qua agli israeliti sono concessi che i diritti medesimi che possiede ogni altro cittadino la spagna ed il portogallo che più d'ogni altro stato si mostraron crudeli contro gl israeliti seguono ora l'esempio dei più civili popoli dell'europa occidentale ed è fatto curioso il vedere l'ordine di isabella la cattolica di quella regina che tanto inesorabile si mostrò contro gl israeliti del suo tempo appeso ora sul petto d'un toscano di loro fede il resto dell'europa che pur finalmente anch'essa si veste di più giusto e mite animo verso gli israeliti offre nonostante ancora molti esempi d'oppressione ed ingiuste esclusioni in Francia al tempo della guerra sostenuta con tanto onore per l'indipendenza contro Napoleone gl israeliti al par de cristiani adempirono al primo fra i doveri del cittadino combattendo virtuosamente l'invasione i principi germanici ed il re di Prascia in particolare ebbero grandemente a lodarsi di loro e con editti ad essi favorevoli ne premiarono i portamenti e vi e più ne accesero lo zelo ma venuta la pace ristabilito l'antico stato si mancò a questa come ad altre promesse si tolse agli israeliti il poter occupare altri uffici oltre quelli ottenuti nell'ora del pericolo e il venire ammessi come professori nell'università queste esclusioni si vennero tuttavia a mano a mano temperando ed ora, combattute dalla stampa e dall'opinione, possan tenersi come totalmente cessate negli stati ereditari austriaci, ed in alcune delle parti che compongono l'impero le condizioni degli israeliti sono sempre poco liete il marchese di Seintoler dovette interporsi per liberare i sudditi francesi dalla tassa di soggiorno in Vienna e dalla giurisdizione dell'Iuden Bureau in Gallizia soggiacciono a molte vessatorie restrizioni qual è l'antico balzello posto sovra ciascuna famiglia in ragione del numero dei lumi accesi da essa sulla lampada sabatica gl israeliti di Cracovia hanno inutilmente implorata dal Consiglio Aulico la continuazione di quelle leggi che li reggevano sotto la spenta repubblica e si trovano ridotti a circostanze peggiori in Bohemia, contro il voto dell'alta cittadinanza il governo rese più miti le leggi sugli israeliti che poterono persino acquistare titoli di nobiltà e vennero liberati dalle imposte eccezionali che gli aggravavano una cattedra di lingua e letteratura rabbinica venne istituita in Praga in Ungheria invece, ha opposto il veto al desiderio della dieta di accordar loro l'emancipazione il re di Baviera si mostra avverso alla rigenerazione degli israeliti la qualcosa è cagione di numerose emigrazioni in Sassonia vengono loro concessi molti diritti civili nell'università di Lipsia non occorre abbiurare l'ebraismo per occupare una cattedra i granduchi di Sassonia Weimar e di Mecklenburgo hanno francato GL israeliti dalle tasse eccezionali nel Wurtenberg sono pressoché emancipati possono essere eletti deputati, e divenire anche ministri nel Ducato di Badem si sta consultando e discutendo sulla loro intera emancipazione la città d'Hamburgo si dispone anch'essa ad ammetterli nel diritto comune e nel regno di Hannover vennero accettati al servizio militare la Svezia e la Norvegia si vengono disponendo ad una riforma delle leggi sugli israeliti il ministero ha ordinata un'inchiesta sulla loro condizione e lo Storting di Norvegia, sovra 81 voti, e ne ebbe 58 fra quali venneran tre di vescovi, in favor loro a questi atti d'ammenda e di riconciliazione in Bohemia, in Svezia ed in Hamburgo corrisposero tosto gli israeliti Zeda Coucher, Aime Benedictus disposero per testamento di vargeri milioni in favore delle città alle quali appartenevano e vollero che fossero applicati ad istituzioni utili, senza differenza di fede il partito preso dall'imperatore Niccolò sul fatto degli israeliti mentre per un lato appare enorme e crudele mostra per l'altro l'intento di toglierli ai traffici e dole usure che esercitarono da tempi antichissimi in quelle regioni e ne furono un grave flagello onde renderli invece agricoltori e possidenti non ho dati bastanti per farmi un'idea chiara della questione ed il darne anche un breve, ma determinato cenno come ho procurato trattando da altri stati sarebbe avventato, e perciò me ne astengo il sultano Abdul Medlid si mostra favorevole agli israeliti e tende ad assimilarli ai cristiani di tutte le comunioni in ogni loro contatto col governo essi sono ammessi nel nuovo istituto di pubblica istruzione venendo ora all'Italia dobbiamo riconoscere che se essa si mostrò meno avversa delle altre nazioni agli israeliti nel medioevo non si può darle il medesimo vanto nei tempi moderni ed ora soltanto, grazie al pontefice riformatore spunta per quel popolo perseguitato un primo albore di miglior avvenire ciò mostra che i modi tenuti con gli israeliti furono e sono in ragione della maggior o minore civiltà dei popoli l'Italia perché più civile delle altre nazioni nel medioevo fu con essi meno crudele rimasta in seguito addietro giunse più tarda a sentire la giustizia e il dovere della loro emancipazione in Piemonte la più antica legge che si conosca risguardante gli israeliti è del 1430 si vede però dal suo contesto che dove hanno esistere provvedimenti anteriori nel 1551 gli statuti permisero agli israeliti di prestar denaro sovrastabili che alla scadenza potevano anche ritenere in pagamento soddisfacendo alle tasse comuni nel 1576 Emanuele Filiberto permetteva di più ed era loro lecito esercitar medicina e chirurgia col consenso dell'arcivescovo e del protomedicato editto 5 giugno 1576 Carlo Emanuele confermava le dette concessioni nel 1603 e sin qui la condizione degli israeliti era in Piemonte assai più comportabile che in altre parti d'Europa le regie costituzioni Pramalgate nel 1723-29-70 toglievano le concessioni di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele e stabilivano vessazioni non usate sino a quel tempo divieto di fondare o di ingrandir sinagoge e soltanto licenza di racconciarle esistenti divieto di passi i derbeni stabili salvo quelli ad uso di propria dimora e di cimiter gerie ove un israelita venisse ad occupare stabili in estinzione d'un debito dove a venderli dopo un anno la Repubblica e l'Impero Francese restituirono agli israeliti i diritti civili e li resero uguali agli altri cittadini la restaurazione del 1814 richiamò in vita le antiche costituzioni e le loro condizioni divennero più che mai triste gli studenti vennero espulsi dalle università e dalle scuole i laureati dovettero scegliere tra l'ozio e l'esilio i possidenti ebbero cinque anni di tempo a vendere i loro stabili ed ogni ufficio, sì comunale che governativo o militare fu negato agli israeliti, che vennero di nuovo rinserrati nel ghetto quivi ridotti, per campar la vita, al più abietto commercio vennero al tempo stesso esclusi da ogni pubblica beneficenza dovettero da esse e pensare ai loro poveri, validi o infermi che fossero all'educazione dei loro fanciulli, limitata alla più elementare istruzione poi c'è, esclusi dalle università e dall'esercizio d'ogni professione non avea né modi né scopo, onde di venire esperti in scienza o d'arte veruna alcuni possidenti ottennero però, per grazia del re Carlo Alberto una proroga al termine fissato per la vendita dei loro stabili ne venne loro mai negato di fondar nuove sinagoge, quando ne occorse il bisogno credo si possa affermare, essere gl israeliti del Piemonte al momento presente in peggior condizione di tutti gli altri loro correligionargie italiani ma l'esempio di Pio IX, ed il nobile assunto preso dal re Carlo Alberto di rinnovare e riformare lo Stato, promette prossimo il termine d'una tanto vecchia ed anticristiana ingiustizia in Toscana sino dal 1593 venne concesso agli israeliti di poter liberamente esercitare il traffico, le arti ed ogni industria, e vennero fatti sicuri nella libera osservanza del loro culto, e nei sacri diritti di famiglia Nello scorso secolo ebbero da Leopoldo I di poter godere dei diritti municipali Nel 1814 Ferdinando III abolì le loro giurisdizioni eccezionali, e li sottopose agli ordini e dalle leggi comuni, tutelandoli con speciali provvedimenti nell'esercizio del loro culto Leopoldo II gli ha mise alla milizia cittadina Essi, ciò non di meno, sono ancora soggetti alle seguenti esclusioni Non sono accettati nell'esercito, e nella tratta estraendo un numero marciante Debbono mandare un altro invece loro Sono esclusi dalla professione forense, ed è da notarsi che la laurea che viene loro concessa non è però punto eccezionale né limitata Sono parimenti esclusi dagli impieghi governativi, quantunque neppur in ciò vi sia legge espressa che lo vieti, come per quegli uffici ove è espressamente voluta la condizione di professare la religion cattolica Non pertanto, il governo in alcuni casi ha introdotte eccezioni a questa consuetudine La nuova vita data ora all'Italia da suoi principi riformatori, si è anche manifestata nel fatto degli israeliti, rendendo generale tra cristiani il desiderio della loro rigenerazione, e più viva tra primi la speranza e l'operosità per ottenerla Il giorno 3 novembre una loro deputazione, presieduta dal signor Pardo Roques, presentò all'ottimo principe una domanda d'assoluta emancipazione accolta paternamente dal gran duca, e confortata di buone speranze, che non saranno certamente vuote ed illusorie lusinghe Nel regno Lombardo-Veneto e nel ducato di Parma assai mite è la condizione degli israeliti Essi sono ammessi nella milizia, all'esercizio di molti pubblici impieghi, alla professione legale, e nei consigli municipali Ad un di presso, le medesime leggi li reggono nel ducato di Modena Nel regno delle due Sicilie non sono comunità israelitiche Passo ora agli israeliti di Roma, che furono principale ed immediata cagione che io dessi opera a questo breve cenno E dai quali, condotto dall'argomento e dalle attuali tendenze dell'opinione, mi son poscia esteso a parlare anche degli altri, tanto esteri che italiani, e a trattare con qualche maggior larghezza la questione di principio, che si connette alla loro causa Terzo Sotto il pontificato di Paolo IV, nel 1554, furono gli israeliti rinchiusi nel ghetto Che cosa sia il ghetto di Roma, lo sanno i romani, e coloro che l'hanno veduto Ma chi non l'ha visitato, sappia che presso il ponte a quattro capi se stende lungo il Tevere un quartiere O piuttosto ammasso in forme di case e tugurge gli maltenuti, peggio riparati e mezzo cadenti Che è i padroni per la tenuità delle pigioni, che non possono soffrir variazioni in virtù del giusgazagauno non mette conto spendervi se non il pretto indispensabile Nei quali si stipa una popolazione di 3900 persone, dove invece ve ne potrebbe capire una metà malvolentieri Le strade strette, immonde, la mancanza d'aria, il suo diciume che è conseguenza inevitabile dell'agglomerazione sforzata di troppa popolazione quasi tutta miserabile Rende quel soggiorno tristo, puzzolente e malsano Famiglie di che i disgraziati vivono, e più d'una per locale Ammucchiate senza distinzioni di sessi, d'età, di condizioni, di salute, a ogni piano Nelle soffitte e perfino nelle buche sotterranee, che in più felici abitazioni servono di cantine Questa non è la descrizione del ghetto, né d'un millesimo delle dolorose condizioni che Nel silenzio e nell'abbandono d'una miseria ignorata, si verificano fra le sue mura Ma vi è appena un cenno, che a farne una giusta relazione, troppo ci vorrebbe Così per capi principali verrò toccando delle maggiori miserie che soffriva e soffre quest'infelice popolo Anticamente, si conosce per tradizione, gli israeliti dovevano nell'agosto dare di esse turpe spettacolo alla plebene cosiddetti giochi dagone e testaccio, dovevano parimente precedere a piedi, fra gli oltraggi del popolo, la cavalcata del magistrato romano Clemente nono li assolse da questa dolorosa cerimonia, mediante una prestazione di 300 scudi, e dai giochi predetti, mediante un'altra di scudi 531 17 A beneficio della Camera Capitolina Una deputazione dei maggiorenti della comunità israelitica doveva presentarsi, il primo sabato di carnevale, al magistrato capitolino radunato in seduta pubblica, e fargli una prestazione in denaro, ed una umile allocuzione Il magistrato rispondeva brevemente, ed il suo capo congedava i deputati con una parola di disprezzo Ma questa cerimonia vergognosa poteva ella sussistere sotto un pionono Egli l'abolì appena giunto al pontificato È vietato agli israeliti il possedere beni stabili, professare arti liberali e che richiedano pubblica fiducia, come avvocati, notai, medici, e neppure i mestieri più comuni, di fabbro, scalpelli noic, e per una strana e capricciosa eccezione, venne loro concesso, son pochi anni, di poter esser falegnami, tessitori di cotonine, ed ebannisti Alla casa dei catecumeni sono pagati annualmente dagli israeliti scudi 1100, e scudi 300 al monastero delle convertite, e questo tributo non si appoggia ad altro titolo salvo la volontà di chi lo impose Quando noi ci lagniamo che il governo inglese costringa i cattolici d'Irlanda a far le spese ad un culto che non professano, ci lagniamo a ragione Perché, dunque, fare agli israeliti quel medesimo che non vogliamo sia fatto a noi Molti pesi sono inoltre imposti agli israeliti, a cui non soggiacciono gli altri sudditi, mentre a questi sono aperte tutte le vie dell'industria ed un onesto guadagno, che ai primi sono chiuse Una tassa detta d'industria e capitali, attualmente pagata da 113 individui, di cui l'infima cifra è di SC4, la massima di SC150 Alla Camera Capitolina, per rispesa dei pali ed apparature del Carnevale, scudi 831 57 1 mezzo Ora però la commissione incaricata da sua santità di compilare lo statuto del municipio, e che così onoratamente e con tanta soddisfazione dell'Universale ha saputo adempiere la sua missione, proponeva l'abolizione della prestazione suddetta Al segretario del vicariato, per la sua presenza alla predica alla quale debbono assistere gli israeliti in Sant'Angelo in Pescheria, con l'accompagno altressi dei carabinieri, scudi 73 60 Quanto questa predica, udita a forza e con tale apparato, conferisca a disporre gli animi ed aprire i cuori a quegli affetti che preparano le vie alla persuasione, ognuno lo può immaginare Al portinaio cui è commesso la guardia delle porte del ghetto, scudi 163 60 ai parrochi delle circonvicine parrocchie, onde compensarli della popolazione cristiana che potrebbe occupare l'area tenuta dagli israeliti, scudi 123 Mance prescritte di Natale e Agosto, scudi 205 Apparati e palchi per il carnevale ad uso di pubbliche deputazioni d'ufficio, scudi 109 92 legale, computista, esattore dell'università israelitica, che debbon esser cristiani, scudi 360 Una tassa d'un baioco sopra ogni libra di carne A ciò s'aggiunga, che non essendo gli israeliti ammessi a partecipare della pubblica carità, del beneficio degli ospedali, dei lavori a sollievo dei poveri, Ed essendo essi, e come sarebbero altrimenti, la massima parte poverissimi, tanto che si calcola gli individui privi all'atto d'ogni proprietà a scendere a duemila, ne avviene necessariamente, che la loro sussistenza in istato di validità, e la loro cura in caso di malattia o di vecchiaia, ricade sui più facoltosi, i quali sopportano così un peso di sopra più, che per gli altri sudditi rimane incluso nei comuni balzelli e nelle generali imposizioni. Tanto che, una terza parte degli israeliti romani è costretta a provvedere al mantenimento dell'altre due. E dobbiamo aggiungere, in lode ed onore dell'università israelitica, che nonostante le strettezze cagionate da tanti ostacoli posti allo sviluppo della sua industria e dal fruttato dei suoi capitali, i poveri sono aiutati o col lavoro o con le lemosine, gli ammalati, i vecchi, gl impotenti, soccorsi di pietose assistenze e di medicine, cosicché a quella misera e conculcata plebe sono prestati tutti quegli aiuti che comportano le angustie e le difficoltà d'ogni genere in che trovasi la loro piccola repubblica. A questa carità che s'esercita sui bisogni materiali, s'aggiunga l'altra, anco più importante, che s'adopra a supplire ai morali, della quale si vedono i frutti nella conosciuta incolpabilità degli abitanti del ghetto, che già mai, o rarissime volte, vengono in mano della giustizia, ed è cosa inudita siano accusati e presi per ladri. Quarto. Da questo breve discorso, e dai pochi fatti accennati, che non dipingono se non una porzione di ciò che fu fatto patire agli israeliti, ne emerge, dunque, che, mentre in principio religioso e razionale è evidentemente ingiusto il tormentare gli uomini per il solo fatto della fede che professano, gli israeliti sono stati lungamente tormentati per questo solo fatto, e non per altro. Ma qual può essere stata la cagione plausibile d'una così lunga e strana e dolorosa contraddizione? Dire che essa sia nata da fierezza e crudeltà d'animo, dall'intenzione deliberata di far soffrire, e vendicare il cristianesimo delle offese fatte dagli antichi israeliti al suo istitutore, non si può ammettere, che troppo ripugna il macchiare con queste accuse, tante nobili e generose nature d'uomini, quali sorsero, vissero ed ebbero autorità nelle generazioni passate. Accusarne l'umana cupidigia. Ciò forse sarebbe possibile, trattando detà remote, ma alle più vicine alla nostra, non è adattabile, poi c'è i profitti che si ricavano dalle tasse arbitrarie sovraaccennate, se sono importanti quando escono dalle mani di chi ha troncata presso che ogni via di guadagno, sono però di poco momento quando si versano nel tesoro dello Stato. Tuttavia la cupidigia, non della parte alta del governo ma di bassi subordinati, è forse cagione, in parte, che si mantenga in Roma l'antica oppressione degli israeliti. Dunque, una sola spiegazione resta accettabile, vale a dire, che l'oppressione in che si sono tenuti gli israeliti sia stata ordinata allo scopo di condurli ad abbracciare la fede di Cristo, e che le persone rozze ed ignoranti vi abbiano applaudito e cooperato, con animo di punire di giunta sulle generazioni presenti la colpa degli antichi suoi padri. Nello stabilire e nel dimostrare che l'intolleranza è ingiustizia, ed è lo stesso che dire, contraria o l'indole e dalla lettera del cristianesimo, aggiunsi che è insieme conducente non al trionfo della verità, ma all'ostinata diuturnità dell'errore. Chi mai, interrogando se stesso ed il profondo senso del cuore, non riconosce che il convincimento è la più incoercibile, la più essenzialmente libera di tutte le operazioni dell'anima umana, quella che più si sottrae alla violenza, più si sdegna contro ogni gioco forzato, e più ostinatamente lo ricusa e lo scuote. Ed in prova, qual è il convincimento considerato complessivamente in una società d'uomini che si sia piegato o mutato sotto un'azione violenta? Qual è la fede che si sia spenta nel sangue dei suoi martiri? Qual è la setta, l'opinione sociale o politica, che sia stata convinta, convertita, e perciò abbattuta coi patiboli e con le torture? Piccole società unite dal vincolo d'una fede, si potrebbero spegnere uccidendone tutti i singoli individui, come Susoko i Templari. Ma chi potrebbe fermar pure il pensiero oggi di soprassimile enormità? Una fede, dunque, che non si possa o non si voglia combattere con queste scellerate armi, non sarà mai mutata e spenta con quelle che, quantunque in più temperato modo, vengono pure dallo stesso principio, vale a dire le persecuzioni, le oppressioni, le vessazioni. GL Irlandesi rimasti cattolici, i protestanti francesi rimasti protestanti, lo dimostrano, ed è inutile citare altri somiglianti esempi, che a tutti ricorrono per loro stessi alla memoria ove si parli di persecuzioni religiose. E ciò che è accaduto pel passato, accadrà costantemente sino alla fine dei secoli, perché non si mutano le condizioni dell'umana natura, e non possono perciò mutarsi gli effetti che ne derivano. Le passioni, gli affetti, gli istinti che hanno più profonde e tenaci radici nel cuore umano, concorrono tutti a rendere invincibile la resistenza contro la persecuzione, anche quando detta resistenza non è mantenuta ed afforzata da soprannaturali pensieri. L'orgoglio offeso, la libertà conculcata, l'ingiuria sofferta, e la sete d'averne in qualche modo vendetta, bastano ad infondere nel debole quell'ostinata e lunganime energia di resistenza, che non si spaventa della morte o del supplizio, non si stanca della sistematica persecuzione, ma giunge a stancarla, e ne trionfa sempre alla fine. L'uomo posto in bali ad una forza prepotente, contro la quale non ha difesa, che lo calca sotto i piedi, lo tormenta, lo strazia in mille modi per aver vittoria della sua volontà, si riduce alla disperata volontà che sola rimanga all'oppresso, di non voler dare ol'oppressore il gusto della vittoria, e gli dice, o lo pensa, se dirlo non osa, tu sei di tanto più forte di me, ma con tutta la tua forza non otterrai di sottomettere la mia volontà. Questa soddisfazione d'un orgoglio sdegnato si compra con ineffabili dolori, è vero, ma l'amaro patto è accettato dagli uomini quasi sempre, ce l'insegna la storia, che tale è la nostra natura. E ciò può avvenire, ed avviene, per effetto soltanto di passioni o colpevoli, o almeno non virtuose, del cuore umano. Ma se alla forza che queste imprimono, s'aggiunga quella prodotta da sentimenti e credenze sincere, quanto più vigorosa non ne diverrà la resistenza, quanto più arduo l'ottenerne vittoria per le vie del terrore e della violenza. E quante volte l'errore non è egli sinceramente creduto verità, e come tale generosamente propugnato. Nobili cagioni, ovvero passioni colpevoli, o non lodevoli perlomeno, possono dunque egualmente, secondo i casi, render vane e deridere tutte le furie della persecuzione. Siccome è assai raro che le cause moventi delle nostre azioni siano assolutamente buone o assolutamente cattive, ed hanno quasi sempre un'indole complessa e composta di bene e di male, perciò quasi sempre la resistenza alla persecuzione fondandosi sui più nobili affetti come sui più appassionati istinti del cuore umano, ne acquista forza doppiamente invincibile, e perciò chi conosce una verità, ne è convinto e vuol convincere altri, dè, seppur è sincero, e se lo zelo per la verità non gli serve di coperta ad ignobili fini, usa al riguardo grandissimo onde non raddoppiare i motivi di resistenza, destando nei cuori le anzidette passioni, e non ridurre una questione di principgei ad una questione d'orgoglio, di puntiglio o di vendetta. Chi vuol persuadere, deve conciliarsi il cuore, prima di dar l'assalto alla ragione, che è, persuadiamocene, la simpatia, l'affetto che sa ispirare il persuasore, forma sempre i tre quarti della persuasione. E in qual modo si ispira amore e simpatia? Con la violenza, con l'oltraggio, col tormentare. Ovvero con la mansuetudine, con la carità e col beneficio. E quegli che la Chiesa ci presenta qual tipo e modello in terra della sapienza divina, quale dei due modi teneva. Quale ci comandava, e ci insegnava con l'esempio. Ci insegnava quello che è solo utile, solo accettabile, perché solo profittevole. E perché, dunque, all'atto pratico teniamo il modo contrario. A voler ridurre gl israeliti ad abbracciar la fede di Cristo, dovevamo, ad essere razionali, porre invece immensa cura onde non potessero tenersi né offesi, né oltraggiati da noi, dovevamo comprenderli ed abbracciarli in quella carità universale che è un precetto, non un consiglio, affinché la passione dell'ingiuria sofferta non sorgesse mai qua l'argine insuperabile, tra la persuasione e la volontà, tra la fede ed il cuore, che doveva amarla per poterla accettare, dovevamo tenerci cari, chiamar. Fratelli, colmar di beneficgeri e coloro che volevamo ridurre nelle nostre vie, come fecero Gesù Cristo e gli Apostoli. E se tenendo altri modi non ci fosse venuto fatto il convincerli, non avremmo almeno a sentir rimorso del nostro operato, né saremmo ridotti a riconoscere, che se la fede nostra non è entrata in che i cuori, la colpa è assai più nostra che loro. Gran meraviglia veramente che uomini sottoposti ad ogni momento della loro dolorosa vita a qualche oltraggio, a qualche strapazzo o dangheria, non abbiano il cuore aperto per chi è ministro del loro soffrire. Come non trovino desiderabile e da amarsi la legge che questi loro tormentatori professano. Vi affiguriamoci, che alla fine bisogna internarsi nelle cose e venirne al concreto, lo squallore d'una delle povere famiglie di ghetto, radunata in quell'oscura ed immonda Tana, ove nasce, ove cresce e vegeta la sua povera vita, e sempre soffrendo si spegne ignorata nelle malattie e nella miseria. Ma, Dio buono! Sotto che i cenci, in quel sudiciume, in quella privazione d'ogni bene morale e fisico, vi sono uomini come noi, uomini e non animali, non cose, uomini che la nostra legge, che le leggi più elementari dell'umanità ci comandano di avere in conto di fratelli, vi sono cuori da Dio destinati a gadare le ineffabili letizie dell'infanzia, le gioge della giovinezza, le forti passioni della virilità, e gli estremi e placidi conforti della vecchiaia, vi sono cuori di figli, di mariti, di spose. Di padri, qual diritto vu era di conculcare tanti affetti, di spegnere tante gioge, di deturpare tanti doni di Dio, calpestar tanti germi utili e generosi, di infrangere tante vite, di contristare tanti spiriti immortali. Figuriamoci quel povero israelita che è padre e sostegno di questa famiglia, che avrebbe avuto da Dio forza ed intelletto onde esercitare un'arte o un mestiere, divenire un buono per io, veder la famiglia o la crescere e fiorire nella competente agiatezza della povertà industrie, partecipare a che i beni, a che i misurati spassi che la Dio grazia sono ottenibili bianco dal povero, purché non gli sia tolto il lavoro, vediamolo ritornare nella sua trista buca dopo un giorno speso a correre le vie della città per il suo lurido commercio di cenci, arrecando con esse è o nullo o scarsissima frutto di sua fatica, entriamo in quel cuore, e pensiamo quale debba essere, mentre considera la crudele violenza che toglie dal sangue suo non gli agi, le delizie dei ricchi, ma il pane, ma l'aria, l'aria salobre, la luce, il sole, che i tesori tanto largamente profusi da Dio, onde sci han comuni al debole come al forte, al ricco come al mendico. Quali ira, qual odio disperato non deve rodere il cuore di quell'infelice, qual orrenda maledizione non deve egli scagliare contro coloro che sono cagione della sua miseria, del lento strazio della sua famigliola, contro la legge che seguono. Che la disperazione rende ingiusto, ne rimane in potestà del disperato entrare in distinzioni, e dare la ragione o il torto con giusta misura. Figuriamoci che, deposto appena il fastello di cenci che ha riportato dalla sua cerca, sia appunto il giorno in che è costretto andare sotto la scorta dei carabinieri in esse angelo a sentir la sua predica, pensiamo qual animo debba essere il suo nell'avviarsi, nel sedere in chiesa, nell'udire quella parola di carità e di pace, che per lui si volge in un tanto atroce di leggio. Quali disposizioni può avere per cavarne frutto? Non è forse connaturale alla struttura del cuore umano, che gli invece, a sfogo d'uno sdegno, d'un odio così forzatamente ripreso, e che non ha altre vie di soddisfarsi, dica in chi era suo, tu puoi bene costringermi ad udirti, ma il gusto di vedermi persuaso non l'avrai in eterno. E quest'uomo, preso all'opposto per le vie della giustizia, della carità, dell'amore, aveva forse un'anima generosa, un cuore accessibile a verità, a speranze auguste ed ineffabili, non avrebbe passata la vita nella maggiore tra le miserie del corpo, l'impossibilità del lavoro, e nella più amara tra le miserie dell'anima, la necessità dell'odiare. E come è stato spogliato di che i beni che aransoi, perché avuti da Dio? Come è stato sepolto in un abisso di guai, ai quali non l'aveva il Dio condannato? Chi ha spenta per esso l'ardente fiaccola della carità e della fede? Chi l'ha respinto, rigettato dal cristianesimo, da quella legge che anche i non credenti rispettano ed ammirano qual simbolo d'unione tra gli uomini, di concordia, di civiltà universale. L'ha respinto la cieca intolleranza. V è chi ardisca negarlo. V è chi possa dire che non son vere le mie parole, non reali le cause, e conseguenti gli effetti che ne ho desunti. Se la teoria dell'intolleranza è oramai esclusa dall'opinione delle classi colte. Ha però ancora molti seguaci tra il popolo, ed è triste e doloroso spettacolo vedertalora. Cagione gli antichi pregiudizi gerie. Il popolano povero è condannato a molti stenti, a molte miserie, e che dovrebbe perciò aver viscere di compassione per chi gli cammina al fianco in questa dolorosa via. Render invece più duro ed acerbo il viaggio del suo compagno, perché non professa la sua medesima legge. Cerchino le classi colte, nel contatto che hanno colle inferiori e più rose, di cancellare questi odgerie, questi pregiudizi, queste ruggini antiche, contrarie alla carità evangelica e ad ogni viver civile. La repulsione che ancora sussiste fra il popolo contro gli israeliti, nasce principalmente dall'idea che la loro razza sia maledetta. Ma Gesù Cristo spirante in sulla croce, non perdonava forse persino a coloro che ve l'avevano confitto. Non pregava forse per loro. Si dovrà dunque cercare appello da una sentenza d'assoluzione, d'amore ed oblio, pronunziata dal Redentore. Ma vi fosse anco, e fosse aperta ed esplicita una maledizione su quell'infelice popolo, chi potrà mostrarmi egualmente aperto ed esplicito il comando a noi d'esserne esecutori. Dove sta scritto che i cristiani debbano farsi i carnefici degli israeliti. Io vedo scolpita in ogni pagina del Vangelo l'idea d'una carità che non distingue né individui, né nazioni, che stringe nel suo abbraccio fraterno tutti i popoli della terra, e li chiama fratelli, ma non trovo una sola parola che ne dia autorità di respingere, daver in odio e disprezzare o tormentare nessuno. V. Di un'accusa mi rimane ora a tener discorso, la quale creduta giusta e fondata da molti, è fonte di ripulsione ed ostilità contro gl israeliti. Molti stimano che la morale da essi professata li guidi e li freni soltanto nelle loro relazioni scambievoli, e si muti o si rallenti o ve abbiano a trattare con uomini di diversa fede. Se ciò fosse vero, la loro comunità sarebbe certo barbara, selvaggia, e da combattersi e distruggersi, o almeno conculcarsi tanto che non potesse nuocere, ma ciò invece è assolutamente falso. Che talvolta, o ve il potessero a man salva, e certo fu raro, uno o più israeliti si siano macchiati d'atti violenti o crudeli contro i cristiani, non so se debba affermarsi, perché questo, come ogni altro delitto, vuol prove ond'essere tenuto certo. Ma poniamo siano realmente accaduti cotali fatti. È forse maraviglia che uno sdegno, un odio generato da ingiuste ed atroci persecuzioni, e lungamente impotente d'ogni vendetta o difesa, si sia alla fine sfogato con atti anco scellerati. Di sé fatti delitti la prima colpa ne sarebbe dovuta ai cristiani e dalle loro persecuzioni, la seconda a quegli israeliti, che, anco eccitati, avrebbero pur dovuto astenersi dal malfare. Ma per darne la colpa alla morale ad essi insegnata da loro maestri, converrebbe che di tale infamia si trovasse traccia nei loro scritti, nelle tradizioni, nell'insegnamento orale, e nieno può dire che vi si trovi. Arte vecchia della frode è dire altrui, tu pensi ed insegni e predichi la tale enormità, e chiuder l'orecchio alle proteste contrarie, chiuder gli occhi alle prove, ai fatti che dimostran falsa l'accusa, onde aver diritto di sevire, odiare, perseguitare, e poter mostrar di farlo per zelo del vero e del giusto, per tante e virtuose cagioni. In ogni età fu usata quest'arme contro coloro che si volean conculcare. Fu usata contro i primi cristiani, ed ognun sa come le loro agape fossero tenute tenebrose assemblee ove si commettessero oscene ed atroci enormità, si scannassero fanciulli, si violasse ogni legge d'umanità e di natura. In tempi meno remoti, non la pratica soltanto da alcuni cattolici, ma l'insegnamento della Chiesa Cattolica, fu accusato di idolatria, e non valse mostrare scritto, predicare, dichiarare il contrario. L'accusa fu mantenuta, pretesa vera, innegabile dai più. Il modo, invece, è cooperazionale nel giudicar la fede, le opinioni, la morale d'un individuo o d'una società, è lo stare alle sue dichiarazioni, alla professione che esso o dessa ne presenta e riconosce per sua. Se poi non vi corrisponde la pratica, questa s'accusi, si giudichi, si condanni, e si condannino gli uomini che la seguono, falsando le opinioni da essi dichiarate utili e vere, ma non si condanni, né si tenga inico corruttore il precetto, mentre esso invece insegnerebbe il contrario. Le accose di atti crudeli, d'uccisioni di bambini, di stregonerie, mosse in tempi più ruzzi contro gl israeliti, sono o mai fole che non possan metter radice nella civiltà e nella cultura presente, e il doloroso fatto di Damasco nel 1840, del quale fu scoperta la verità ed ottenuta giustizia da Sir Moise Montefiore e dal giurisperito Cremieux, mostra appunto che soltanto in una società rosa ed ignorante possono trovare fede somiglianti stravaganze. Ma un'altra taccia, più conforme al costume ed all'uso del tempo, e perciò più credibile, sappone agli israeliti, quella d'una mala fede non solo sistematicamente praticata nelle loro contrattazioni co-cristiani, ma permessa dalle loro leggi, e dalla loro morale. Se la mala fede ne traffici, se l'usure imbrattino più gli israeliti o più i cristiani nel consorzio civile della società moderna, è questione che non intendo sciogliere, e non importa al mio assunto. Ma la suppongo per un momento decisa in favor nostro, ammetto che l'usura, la frode nel traffico sia special al pecca degli israeliti. Ma viva Dio, essi non possono possedere, né farsi perciò agricoltori, non possono studiare, essere avvocati, notai, medici, chirurgi, non possono occupare impieghi pubblici, respinti dalla società, non ne ottengono amministrazioni private, non possono esercitare arti o mestieri se non pochissimi, ed incontrano anche in questi ogni difficoltà per farvisi esperti, tutte le vie son chiuse per loro, tutti i modi negati onde campare onestamente la vita, e da queste legali esclusive s'aggiunge, o. almeno se aggiunta sin qui, l'altra più tremenda, dell'anatema del disprezzo, più o meno aperto ed esplicito, dei loro concittadini, contro il quale non è natura d'uomo o di popolo tanto ferrea, tanto intera ed ardita, che non ne fosse fiaccata, resa inerte, incapace d'ogni qualcosa richieda virtù, prontezza ed energia. E dopo che, per colpa nostra, sono gli israeliti ridotti a queste tristi ed abiette condizioni, dopo che, per non morir letteralmente di fame, una sola via vi è loro lasciata, quella del commercio e del giro del denaro, ci vorremmo stupire che non fossero intemerati e scrupolosi fautori della più rigida onestà, che non avessero gelosa cura di non ledere i nostri interessi né contratti stretti coi loro persecutori. Ma la verità del fatto che nelle contrattazioni siano più sleali gli israeliti dei cristiani, è perlomeno molto dubbio. È certo ad ogni modo, che se sono meno onesti né paesi ove essendo più tormentati, caddero necessariamente in una maggior degradazione morale, né luoghi invece ove ebbero più miti gli uomini e le leggi, d'altrettanto divennero migliori e più morali, trovandosi liberati dall'ingiustizia e dallo sprezzo, che corrompe ed invilisce, e sorretti invece dall'equità e dalla benevolenza, che guida alla virtù, rende l'uomo confidente e giusto e stimatore di se stesso, e perciò capace di nobile ed onesto operare. 2. Alla fine poi, qualunque fossero i loro modi coi non israeliti, non se ne può incolpare le loro leggi e la loro morale. Esaminando ambedue dai primi tempi fino ad oggi, io non trovo se non precetti che tendono alla carità e dall'amore del prossimo, senza distinzione di culto o di fede. Eviterei al lettore il fastidio delle citazioni se non fosse ugualmente giusto ed importante il chiarire la verità, e purgarla da pregiudizie tanto radicati. Comincio dalla legge di Mosè, e scelgo pochi esempi tra moltissimi. La legge di Mosè condanna a morte il padrone che percuote lo schiavo anche Cananeo, sino ad ucciderlo, Esodo XX, XX, XX. Comanda di non abborrire gli egizi, in grazia dell'ospitalità da essi accordata un tempo agli ebrei, di Utiriam. 13, Sorriso. Esprime una distinzione tra l'israelita ed il non israelita, nocri, la quale voce significa uomini di nazione straniera, e non d'altra religione, che convivessero con gli israeliti, non trattandosi di leggi d'onestà universale, ma solo trattandosi di speciali disposizioni di fraternità e benevolenza, verbi grazia. Un grado di non domandar censo per denari prestati, di Utiriam. 13, 20, 21. Due gradi di non esigere crediti anco recenti ispirato l'anno sabatico, di Utiriam. 15, 1. 3, Echek. Nella storia sacra, Giacobbe maledice l'ira di Simeone e Levi, e l'eccidio de Sichemiti, il cui principe avia pure sforzata la loro sorella. Giosuè rispetta il giuramento fatto ai Giabaoniti, benché dannati da Dio all'esterminio, e sebbene il giuramento fosse stato dolosamente carpito. I talmudisti danno il precetto ama il prossimo tuo come te stesso, quale epilogo di tutta la legge, e la voce ebraica neang, prossimo esprime ogni uomo, e non il solo israelita, poi cetro vasi ancora usata per esprimere egiziano. Vietano di fare altru illusione, anco al non israelita. Voetitum fallere o mainzeti am gentiles tre verbi grazia, di presentarlo di cosa alcuna facendogliela credere di maggior valuta che non è in effetto, talm. Bab. Collin, Fall. 94, condannano alla restituzione chi ruba il goi, infedele, e tengono anzi maggior colpa a derubarlo, che non l'israelita, poi ce ne rimane profanato il nome di Dio, Iosafta, Kama, capitolo 10. Maimonide, uno dei più autorevoli talmudisti, vivente in Spagna nel secolo XV, dice espressamente, chi trafficando con l'israelita, come con l'idolatra, usasse falso peso o falsa misura, contravviene ad un divino precetto, ed è tenuto alla restituzione etc. Calcolerai col tuo compratore.Il qual testo tratta di un non israelita tuo suddito, quanto più dovrai osservare tal legge con chi non è a te soggetto. D'altronde la scrittura dice, è in abdominazione all'eterno chi tali cose commette, ognuno che commette ingiustizia. Proposizione assoluta e senza alcuna condizione. Trattato Geneva, capitolo 7. Affermano che quando il salmista, salò 15.5, encomia chi presta il denaro senza interesse, intende quando si faccia anche col goi, talmud bab. Makod. Fag. 24. Potrei aggiungere molti altri testi dello stesso tenore, ma lo stimo superfluo. In opposizione a queste massime tendenti a stringervi e più fra gli uomini i vincoli sociali, ve ne sono, è vero, né codici talmudici e nei libri rabbinici alcune invece che spirano odio ed intolleranza, ma è da considerarsi essere i due codici talmudici, tanto il geroso limitano che il babilonese, stati compilati mentre ancora vigeva il paganesimo, il quale si rendeva doppiamente odioso agli israeliti col peccato di idolatria, il più abborrito da essi, e con la crudeltà della persecuzione. I libri degli antichi rabbini furono anch'essi scritti sotto l'impressione dell'odio e dello spavento che dovevan destare le orribili sevizie del medioevo, ma nessuna di queste autorità è accettata o riconosciuta dai rabbini, o dagli israeliti presenti faccina triste quattro e tenerli capaci di porre in pratica massime unicamente derivate da passioni e da circostanze straordinarie, sarebbe lo stesso che creder capaci i cristiani del secolo XIX di riaccendere i roghi dell'inquisizione. Sette ora dunque, riassumendo il mio discorso, mi sembra dimostrato che l'intolleranza e le persecuzioni che ne derivano, non solo sono ingiuste, contrarie alla ragione, ai comandamenti dell'Evangelo e dagli esempio di Gesù Cristo e degli Apostoli, non solo sono inefficaci ad ottenere lo scopo cui sembran dirette, ma gli sono contrarie, conducono all'effetto diametralmente opposto, e nel caso degli israeliti, l'appoggiarle ad una maledizione che pesi sulla loro schiatta, o al desiderio della loro conversione, o alla corruttela della loro morale, non è né da cristiano, né da uomo retto e razionale. E mi sembra ugualmente provato, che la tolleranza non è indifferenza per la fede e la religione, ma è anzi zelo per il suo trionfo, e il miglior modo di procurarlo. Ma a questo punto ringrazio di cuore il Dio, che tutto il detto sin qui si riferisca oramai assai più al passato che al tempo presente. L'emancipazione civile degli israeliti è stata incominciata, e sarà immancabilmente compiuta da quel pontefice che ha saputo cogliere e riunire nella sua mano benedetta tutte le palme della virtù e della carità evangelica. A distanza e per opera di Don Michele Caetani, principe di Teano, fattosi virtuoso ed illuminato promotore della causa degli israeliti, Pio IX ha confidato ad una commissione l'esame dei loro giusti reclami, e la cura dei modi atti a render loro piena giustizia. Primi effetti di queste disposizioni sono stati la permissione d'allargarsi in erioni adiacenti al ghetto, con che ne verrà spazio ed agio maggiore a coloro che vi rimangono. La vergognosa cerimonia del sabato di carnevale in Campidoglio, ed il tributo che vu era annesso, furono, come accennammo, l'una e l'altro aboliti. A questi primi passi terranno dietro certamente tutti gli altri, fincessi a completo questo grande atto di giustizia. Un nuovo passo sta intanto per muoversi, l'ammissione degli israeliti nei ruoli della guardia cittadina. Pio IX vi ha dato il suo consenso, onde si può tenere la cosa giudicata irrevocabilmente in principio. Quanto alla pratica, sembra si incontri qualche difficoltà, sembra vi sia il timore, forse non interamente fuor di proposito, che nel rione ove dovrebbero gli israeliti concorrere al servizio cittadino, non siano del tutto spente le vecchie repulsioni, e potesse col contatto tra essi ed i cristiani nascere qualche scandalo. Se per una parte è prudente tener quelle vie che possono antivenirlo, per l'altra è giusto e conveniente cercare un ripiego, onde non sia loro tolto il poter partecipare agli effetti di quella onorata e leale fiducia che dimostrò il pontefice al popolo dello Stato e di Roma. Ripensando il lungo patire di quella sventurata nazione, respinta per tanto tempo da tutti i beni e i vantaggi del viver civile, del quale bensì dovea sostenere raddoppiato ogni peso, ripensando l'ingiusto disprezzo onde fu segno, le dolorose umiliazioni delle quali ebbe a bere il calice sino alla fecia, come non sentire il desiderio, il bisogno di una riparazione pronta ed aperta quanto è possibile. Come non provare quel senso di rispetto e di premura sollecita che desta una sventura immeritata e sostenuta con lunganimità e fortezza? Qual giugia, qual soddisfazione può immaginarsi al mondo maggiore e più pura di quella di poter farsi strumento di giustizia e di misericordia? Chi mai potrebbe, ove fosse scelto al dolce ufficio di spalancare all'innocente prigioniero le porte del carcere, di restituire il suo a chi n'era stato violentemente spogliato, di ridonare l'onore a chi ha patita immeritata ignominia? Chi potrebbe non sentire una fretta smaniosa da dempire l'augusto incarico? Certamente questi virtuosi sensi albergano in cuore di coloro che sono ordinatori e guida della guardia cittadina, e sapranno trovare modo onde conciliare la prudenza con la giustizia, e col desiderio che provano senza dubbio di stender senza ritardi una mano amica a chi sinora non ebbe se non scherni e ripulse. Per quanto non creda ufficio mio il dar consigli a cui compete l'ordinare il servizio della guardia, stimo però mi sia lecito esporre modestamente un mio pensiero. Se lo scrivere nei ruoli tutti gli israeliti che a norma della legge e dell'età vi sarebbero compresi, può essere origine di qualche inconveniente, non si potrebbe ristringersi ad un minor numero, e scegliere da una nota presentata dall'università stessa degli israeliti, quegli individui che per loro stato, il loro costume, i modi, la cultura, fossero atti a conciliarsi gli animi, e rimuovere ogni idea scortese, ogni senso di repulsione. E se ciò non fosse stimato bastevole, non si potrebbe provvisoriamente dividerli in modo che prestassero l'opera loro ne vargerioni separatamente, e si trovassero così frammisti a coloro che per idee più giuste, e per civile educazione, stimerebbero dovere e sentirebbero giogia ad accoglierli come amici e fratelli. La guardia cittadina di Roma presa nel suo insieme non potrebbe certamente aver altri sensi che questi. Formata con magica rapidità in un momento di pericolo, essa ha mostrato vigore, energia, prontezza e prudenza degna d'un corpo che contasse lunghi anni di esperienza e di vita. La vista di che i cittadini che pel passato, e sino a pochi mesi fa, attendevano soltanto ai diversi uffici della vita civile così disformi da ogni idea ed esercizio della milizia, posti ora in fila, ed esperti così presto dell'atteggiarsi, del muoversi militare. Del maneggio delle armi, dei doveri del soldato, lo sai Dio qual profondo senso di giogia mi abbia destato in cuore. Qual dote di nobili e generosi sentimenti non è accennata e sottintesa da questi fatti. Il solo pensare che uomini di così eletta natura potessero non dico ripugnare ad accogliere tra loro chi sinora fu così a torto proscritto, ma non sentir pienamente quanto sia degno ed onorato l'atto che li ritorna alla esistenza, all'onore di cittadini, sarebbe imperdonabile ingiuria, che i più avversi ed ostinati detrattori del popolo romano non osarono mai dargli taccia di basso e poco generoso sentire. Né tempo, né servitù, né traversi e di fortuna, bastarono a cancellare quel suggello di generosità e di grandezza che gli fu impresso dall'antica sua virtù, ed è ancora allo straniero cagion di stupore e di meraviglia, tutto si può sperare da un tal popolo, e stare in dubbio, all'opposto, che gli non senta quanto sia bello il riparare l'ingiustizia e l'onorar la sventura, sarebbe, lo ripeto, fargli ingiuria, che gli è ben lungi dal meritare. Questa giustizia che trova, come ogni atto virtuoso, il suo premio in se stessa, avrà poi altro prezioso guiderdone, la gratitudine, le benedizioni di chi ne è fatto segno. Quanto esse possano essere calde e vivaci, lo vediamo da ciò che accade in Toscana. I redattori del giornale di Pisa l'Italia, uomini eletti, di novi il cuore, onore di quello studio ed Italia, come sa ognuno, e come appare dal loro giornale, hanno presa a difendere la causa degli israeliti. Quelli di Livorno hanno tosto pubblicata una lettera, nella quale è il passo seguente, voi ci chiamate fratelli. Questa parola varrebbe essa sola a cancellare la ricordanza di tanti secoli di umiliazioni e di dolori. Questo dolce e santo nome noi lo accettiamo con la coscienza di meritarlo, perché noi pure intendiamo di cooperare al bene d'Italia nostra, che fu sempre in cima dei nostri pensieri, perché ci sentiamo nell'anima fratelli a quanti per essa patirono, a quanti s'allegrano all'idea del suo prossimo risorgimento, a quanti sono pronti sacrificare per lei gli agi, le sostanze e la vita. Queste semplici parole, quando le lesi, mi penetrarono il cuore, mi commossero profondamente, tanto è l'affetto, tanta è l'effusione di sincerità che da esse traluce, e pensai fra me stesso, quali nobili e preziose soddisfazioni rifiutano e sprecano gli uomini con l'amara e superba pazzia dell'intolleranza e delle persecuzioni. E qual fonte di gioge, di felicità, di profitti scambievoli, potrebbero all'opposto trovare nel rispetto dei diritti di tutti, nell'onorarsi ed amarsi gli uni con gli altri, come ci insegna quel codice che più di tutti mostra la via per la quale abbia l'uomo a cercare la sua vera e stabile felicità. Ma se questa via, la civiltà cristiana l'aveva in parte smarrita, se, purtroppo, in molte parti ed in molti casi, professando una dottrina in parole, la rinnegavano nei fatti, e chiudendo gli occhi all'eterno sole della giustizia e della verità, concludeva invece ed operava a norma dell'errore e dell'iniquità, ora il Dio, pietoso delle sue creature, ci ha mandato chi ci rimetta sul buon cammino, e ci sia guida e sostegno onde non ismarrirlo per l'avvenire. I primi operai dell'Evangelio conquistarono il mondo con la mansuetudine, con la giustizia e col sacrificio, con l'armi medesime l'ha conquistato Pio IX. Egli ha conosciuto quali siano le vere ed inconcusse basi sulle quali si fonda quella religione onde egli è capo e difensore in terra, e conoscendo del pari, quali cagioni le avessero smose, ponendo l'edificio in puntelli, spegnendo nel QR degli uomini l'affetto, il desiderio di tutelarlo e sorreggerlo, ha saputo scoprire la vera radice del male e mettervi risolutamente la scure, e quali effetti egli abbia ottenuto, lo vediamo tutti, lo vede il mondo, che attonito e riverente assiste al grande. Spettacolo d'una trasmutazione sospirata tanto e così poco sperata, eseguita senza violenza, senza sangue, senza una lagrima, ed anzi col bene, col profitto di tutti, coi soli strumenti e le sole potenze della giustizia, della mansuetudine e della carità. Questa trasmutazione si sta operando al tempo stesso nel mondo materiale e nell'intelligenza del mondo soprannaturale, e quella virtù che opera beneficamente sul primo, agisce per propagata potenza anche sulla seconda. Se la legge cristiana ammonisce gli uomini che il loro passaggio sulla terra è tempo di prova, e preparamento ad un futuro migliore, e perciò soltanto epoca di transizione, offre però nello stesso tempo la formula, per dir così, del maggior bene e della minore infelicità possibile in questo loro passaggio. Ne porge i precetti che frenano e dirigono i loro intelletti e di loro cuori, quali capricciose prove imposte all'uomo nella sola considerazione della vita futura, degastighi da evitarsi o depremgeri da conseguirsi, ma insieme li presenta come una manifestazione delle condizioni necessarie all'uomo onde viva meno infelice, come tesoro di sapienza offerto innanzitratto all'umana specie, come un'anticipazione sull'esperienza, e gli uomini trovano né semplici ed angusti precetti dell'Evangelio. Un insieme di leggi morali, che, accettate quali fondamenti delle sociali e delle politiche, li condurrebbero a tutta quella libertà e quell'eguaglianza che può ottenersi onestamente e ragionevolmente nell'umana società, leggi che applicate alla pratica rendono gli uomini giusti, mansueti, generosi, amorevoli scambievolmente, gli impediscono perciò dopprimersi a vicenda, e da crescere per opera e volontà loro quella misura di infelicità e di miserie, delle quali Dio per gli arcani suoi fini dispose sopportassero il triste retaggio. Gli pone, per conseguenza, in quella condizione che porta con esse è la minor dose di infelicità, o la felicità maggiore che sia ottenibile sulla Terra. Quindi ne seguì sempre, e sempre ne seguirà l'effetto, che più la legge evangelica sarà applicata ed osservata, più sarà generale la giustizia, la carità, la vera libertà fra gli uomini, i quali, per conseguenza, più si troveranno felici, e più saranno devoti ed amanti di quella legge che è per loro origine di tanti beni, e questo bello e fortunato ordine del mondo materiale, sarà come un allettamento, un'introduzione al mondo soprannaturale, alle idee che lo dominano e lo dirigono. In altre parole, i benefici effetti dei precetti evangelici, essendo fonte di bene e di felicità terrena, saranno argomento agli uomini della loro divina origine, la civiltà sarà prova, sostegno ed allettamento alla religione. Mentre invece, ove la religione si faccia setta ed istrumento politico, pretesto o coperchio d'oppressioni ed ingiustizie, nemica della civiltà, verrà rigettata dalle moltitudini, che da suoi mali effetti trarranno argomento per negarle un'origine divina. In questa forma stabiliva il Dio le cose di qua giù, e nella forma medesima fonda e stabilisce Pio IX il rinnovato e ricco edificio del quale si è fatto architetto. Suo primo ufficio, come pontefice e vicario di Gesù Cristo, è certamente l'aver cura alla fede e dalla religione, procurarne il trionfo, raffermare chi crede, confortare chi vacilla, persuadere chi non crede. E quali modi ha egli giudicato opportuni o l'adempimento dell'Augusto suo ufficio? Quelli che accennavamo di anzi, tenuti da Gesù Cristo, i soli giusti e razionali, perché i soli veramente atti ad ottenere lo scopo, i soli profittevoli all'umanità. Pio IX, col rinnovare ordini e leggi, col ristabilire diritti conculcati, col introdurre riforme utili e spontanee, si è mostrato giusto e stretto osservatore di quel precetto evangelico, che rende il debole e l'infimo rispettabile al grande, al potente, che difende il derelitto dalla violenza del forte, con lo scudo della fede e della carità, e i deboli e i derelitti hanno benedetta quella fede che prima maledivano. Pio IX, con l'oblio del passato, con l'amnistia, si è mostrato misericordioso e religioso seguace del precetto che impone di concedere perdono, perché tutti ci troveremo all'occasione di doverlo un giorno implorare. E quelli che rivedevano la famiglia e la patria, hanno benedetta la religione del perdono. Pio IX, col aprire le braccia a tutti gli afflitti, col accogliere le loro preghiere, ascoltarne i lamenti, tergerne le lacrime, col ripetere quelle divine parole, venite a me voi tutti che siete nell'afflizione, ed io vi consolerò. Seguì il grande esempio del Redentore, fa modello e vero ritratto di quella carità che è il compendio di tutta la legge, e ne forma il massimo dei precetti, e tutti i consolati hanno detto, questa è veramente religione divina. Eppure tutto ciò non versava se non sovra interessi terreni, miglioramenti sociali, sovramutazioni negli ordini dello Stato, tutto ciò non era se non cura e rimedio di mali che affliggevano il mondo materiale, non si è udito che nel morale egli abbia promossa mutazione veruna, che esso abbia desiderate o prescritte maggiori pratiche nel culto, nuovi o più frequenti atti di religione, egli non ha moltiplicate cerimonie, non ha spedito predicatori o missionargerie, non ha suscitato apologisti, non ha ordinato si pubblicassero nuovi libri a difesa della cattolica fede. Ma egli ha fatto assai meglio, ed assai più. Egli ha saputo renderla amabile, desiderabile agli uomini, ha saputo mostrarla all'opera, e far vedere quanto sia utile, quanto sia benefica nei suoi effetti, ha saputo rendere evidente la calunnia di chi la diceva nemica al viver civile, nemica a quella onesta ed ordinata libertà, a quella giusta eguaglianza dei dritti sociali, che è invece il più distinto carattere dell'Evangelio. Ha provato che il più religioso, veramente religioso, dei pontifici, è necessariamente ad un tempo l'ottimo dei principi. E perché tutto ciò? Perché Pio IX non è l'uomo del partito, ma è l'uomo di Dio. Ecco la spiegazione e la chiave dei suoi trionfi, della sua immensa potenza morale, della venerazione che ispira, della sottomissione che trova in tutte le volontà, dell'ardente amore di che è fatto segno, ecco perché in tutto il mondo il suo nome è la speranza dei deboli e degli afflitti, e l'invocazione di tutti gli oppressi, e suona come l'annuncio di tempi migliori, di giustizia e di rigenerazione. Ecco perché a Pietroburgo, a Vienna, come a Londra e Parigi, l'inno di Pio IX è cantato e udito con passione ed applauso, quasi canto nazionale, ed anzi più che se fosse canto nazionale, poi c'è tenuto qual culto reso ad un principio che tutti produce e domina quanti sono al mondo principi utili e grandi, che è la base inconcusa, il germe fecondo del bene non d'una nazione ma di tutti i popoli, dell'intera civiltà cristiana, il principio che prostra infrante le armi caduche della violenza, ed altre ne pone, sante ed immortali, nelle mani della giustizia, del diritto e della vera libertà, affrettandone il trionfo e la nuova e generale ristorazione. 5 Perché Pio IX non è l'uomo del partito ma l'uomo di Dio, s'è sparso fra tutti i popoli quel fremito che sorge ola pressarsi delle grandi manifestazioni della potenza divina, è scoppiato quel concorde grido di lodi ed allegrezza, che nessuna umana forza, nessun concerto, nessun'arte potrebbe produrre, e che s'alza spontaneo quando. Tutte le menti sono ad un tratto colpite da lì stesso pensiero, vedono la medesima verità, quando tutti i cuori provano l'effetto medesimo. Popoli diversi di lingua, di clima, di costumi, di leggi, di fede, hanno avuto un solo ed identico affetto, hanno concordi alzato il grido, per proclamar Pio IX il restauratore del senso religioso, l'uomo della civiltà, l'uomo da tanto tempo aspettato e sospirato sull'alto seggio che rimaneva vedovo e deserto, l'uomo che soddisfacesse all'intimo senso delle nazioni, dell'opinione, decolti tutti del globo, che innalzando la fiaccola della fede, gli ammonisse al tempo stesso a spegnergli odgerie conciliar gl interessi, transigere sin all'ultimo limite o ve lo concede una sincera ed illibata coscienza, a tollerarsi a vicenda gli uni e gli altri, come ci tollera quel Dio che muove il sole e ne dona calore ed il raggio ugualmente a tutti gli uomini, ad amarsi come debbono i figli d'uno stesso padre avviati al medesimo viaggio, e ad una meta comune. Non sono forse questi i cardini su cui stanno inconcussi che i principi che tutelano e collegano tutti i popoli. Perciò tutti i popoli si son volti a Pio IX, tutte le menti l'hanno proclamato arbitro della civiltà, tutti i cuori l'hanno benedetto. La più dichiarata nemica del papato, l'Inghilterra, ha reso omaggio all'uomo di Dio, nel più Augusto de Consessi, per bocca degli uomini di Stato, che ne sono guide e moderatori. Le loro nobili ed elevate intelligenze si sono commosse all'apparire di quella inaspettata luce sul Vaticano. Si sono volte amiche e riverenti per benedirla e avvicinarsele. Un nuovo senso, per dir così, di pudore si destane protestanti per le ostilità dirette contro i cattolici. La coscienza pubblica rifugge spontanea dal contristare ed affliggere, mentre Pio IX benefica e consola. Il principio cattolico è riabilitato, l'antico grido noto per i suona come un anacronismo se io non dico per questo che sia prossima o certa la fusione dei due principi gerie, cattolico e protestante, ma dico e tengo per certo, che Pio IX ha abbattuto il maggiore ostacolo che le si opponese, e, se non altro, ha coi suoi atti e col suo esempio insegnata la mansuetudine e la tolleranza, ha disarmata la persecuzione del suo flagello, e la costretta almeno a vergognarsene. In Germania, in Francia, sotto forme diverse, conseguenti alle diverse condizioni e dai vargeri caratteri nazionali, succedono analoghi effetti, ed il principio cattolico, immedesimato, grazie a Pio IX, con la giustizia e la carità nella sua applicazione al mondo materiale, immedesimato con la tolleranza rispetto al mondo morale, si presenta sotto una nuova luce, purgato delle antiche macchie, assolto dalle vecchie accuse e da lunghi sospetti. Potrà ben darsi che non sia accettato, che la sua fede non venga accolta, ma non potrà oramai eccitare odio o disprezzo, e dovrà essere invece oggetto di rispetto ed amore, come lo è già infatti nell'Augusto suo capo. E tutto ciò, non possiamo abbastanza ripeterlo, perché Pio IX non è l'uomo del partito, ma l'uomo del QR retto, l'uomo di Dio. E perché accadeva, per il passato, tutto all'opposto, perché non uomini di Dio, ma del partito, arancoloro che per tanti anni vollero persuadere al mondo, che essi non avevano altri pensieri, altri interessi se non quelli della religione, del cattolicismo, anzi erano esso e loro una cosa medesima, inganno così mirabilmente smascherato, e reso palpabile ora ai meno veggenti. Inganno che, appena palesato e fatto noto agli uomini, dove accadere, come cadde, divenendo inutile e deriso strumento. Inganno che, tratto a forza dalle sue tenebre, ed esposto al vivo raggio della stella che splende sul Vaticano, giacque sotto il tremendo confronto, e divenne chiaro e patente argomento di verità, apparendo aperto e chiaro chi veramente e sinceramente sia nancio della parola evangelica, e chi ne faccia invece sacrilego strumento di insaziabilità, di violenze ed ambizione. Ma l'insistere su queste verità è oramai, la Dio grazia, opera superflua, mentre le loro logiche e pratiche applicazioni appaiono, più o meno, dappertutto in via di venire adottate. Quel pontefice che, nel porre rimedio ai mali del suo popolo, aveva mostrata tanta sete di giustizia, tanto ardore di carità, non poteva non commuoversi delle miserie degli israeliti, che son pure anch'essi suoi figli, che quantunque divisi di fede e di culto, sentono il desiderio, il bisogno di cercare in esso un padre, che in lui già lo trovarono, e piegano ad esso riverenti se non sinora le intelligenze, certo gli affetti e le volontà. Egli fece per essi assai, poi c'è stabili giusta in principio la loro assimilazione agli altri cittadini, con quell'autorità che è certo la più competente in tal materia, di quante sieno autorità al mondo, che invocata a torto, e male usata dall'ignoranza, dallo spirito di setta, dalle passioni, dall'intolleranza, se ora sciolta da così turpe sodalità. Ed il primo passo mosso da Pio IX per guidare gli israeliti ad una completa emancipazione, sarebbe già forse stato seguito da un secondo e da molti altri, se gli avesse trovato più unanime il consenso dell'universale nell'accogliere questo grande atto di giustizia, e nell'applicarlo alla pratica con la cooperazione pronta e spontanea di tutti gli individui e di tutti i ceti. Ma, siccome al dissodarsi delle terre lasciate da lungo tempo incolte e selvagge, danno minor rimpaccio i fusti delle piante sorgenti sulla superficie del suolo, che non le loro radici, e quelle innumerabili e tenui barbe che serpono e si perdono nelle viscere della terra, e che non si giunge a sterpare se non con lunga e perdurante fatica, così avviene che, nella società umana, potenti e benefici riformatori ebbero più di tutto a travagliarsi in ogni tempo intorno i pregiudizi plebei, diramati. Nelle moltitudini dalla malizia e dalla ignoranza, e dovettero spesso arrestare o sospendere il loro generoso corso a fronte di questo ignobile ostacolo. A torno di mezzo, e sgombrare così al gran pontefice la via, molti si adoprarono e s'adoprano volenterosi in molti punti d'Italia. È da desiderarsi che il loro esempio venga imitato, e che più di tutto si lavori a vincere i pregiudizi che ancora rimangono fra il volgo, ed il volgo, persuadiamocene, è composto talvolta di signori e di ricchi, quanto di poveri e popolani, mostrando loro, che la causa della rigenerazione israelitica è strettamente unita con quella della rigenerazione italiana, perché la giustizia è una sola, ed è la medesima per tutti, ed è forte ed invincibile soltanto quando è imparzialmente domandata a chi ci sta sopra ed è più potente di noi, come imparzialmente fatta a chi si trova nella nostra dipendenza. Il concorde ed alto grido messo dall'opinion pubblica in Italia onde chiedere riforme, e domandare ai principi che franchi si tessero alla testa della nazione e la guidassero all'indipendenza e dalla libertà, fu ascoltato perché potente, e potente perché sommamente giusto. Ma se negheremo agli altri quella giustizia che per noi stessi invochiamo, questa potenza verrà indebolita, quel santo grido di rigenerazione non suonerà verità, giustizia per tutti, ma privilegio, egoismo e privato interesse, e verrà per noi rinnovato il fatto della parabola del Vangelo, di quel servo che implorò ed ottenne dal suo signore tempo ed agio a pagare la grossa moneta di che gli era debitore, ed uscito dalla sua presenza ed incontrato quel suo compagno che di piccola cosa l'aveva a soddisfare, l'afferrò per il collo, e gli negava ogni compassione. Essere giusti, imparzialmente, rigorosamente giusti, è il miglior modo onde esser potenti, perché gli uomini senza volerlo e saperlo talvolta rendono culto alla giustizia, e ne rispettano i decreti. Ed anco tra i violenti e gli iniqui, non vuè cuore tanto in sé stesso sicuro che non vacilli al cospetto della giustizia, quando si appalesa per opera delle moltitudini piena, luminosa, irrecusabile, ed appare, qual è veramente, emanazione divina, e certa manifestazione della volontà dell'Onnipotente. Ognuno di noi, dunque, tenda la mano ai nostri fratelli israeliti, li ristori dei dolori, dei danni, degli ingiusti schemi che fecero loro soffrire non dirò i cristiani, che un tal nome non si conviene a chi rinnega o falsa il sommo tra precetti di Cristo, la carità, ma coloro che avevano, e, per il fatto delle riferite persecuzioni, non meritavano il titolo di cristiani. Io, per la mia parte, in ammenda del passato, impegno dell'avvenire, non ho altro da offrire agli israeliti se non queste povere pagine, ed il buon volere. Accettino il tenue dono con quel cuore medesimo con che vi è loro dato, e se a quest'atto, che io tengo stretto adempimento d'un dovere di giustizia, volessero essi attribuire pregio maggiore e farlo degno di guiderdone, scordino il passato, e tengano me e tutti gli uomini della mia fede, come noi terremo loro, in conto di fratelli, e sarà questo il più accetto ed onorato di quanti premge io potessi immaginare o desiderare. Fine Note 1 Diritto accordato agli israeliti di non dover essere soggetti ad aumenti di pigione 2 Durante il tumulto avvenuto in Firenze all'occasione de Birri, sul finir d'ottobre, il Kavbasevi, israelita, capitano della civica, si trovò a avere il comando d'un posto, ebbe a dar ordini, prender disposizioni, e si portò, a detta di tutti, con prudenza e vigore. Egli, parlandomi di questo fatto, mi diceva, se io ho potuto far nulla di buono, è stato perché mi vedevo secondato, non incontravo visi e sguardi di disprezzo, non mi sentivo sulla spalle l'anatema dell'ebreo, qual dolorosa verità, e qual giusto ed amaro rimprovero sta scolpito in queste parole. 3 L'autore del Chassidim, vivente circa il 1200 in Francia, dichiara peccatore chi, nel salutare il non israelita, gli dice sotto voce villania, che l'altro suppone parole amorevoli. 4 Ciò appare dagli atti dell'Assemblea degli Israeliti di Francia, e del Regno d'Italia, convocata in Parigi da Napoleone con decreto del 30 maggio 1806. 5 In una delle ultime sedute della Camera dei Pari, una voce rispettata proclamava Roma centro della libertà, e non intendeva certo parlare di quella del 93. E qui accade l'osservare, che molti i quali amano e vorrebbero veder rinnovati gli antichi sistemi perché facevano loro pro, rappresentano il grido e l'inno di Pio IX quale strumento di sedizione o rivoluzione. Sappiano costoro, come sa l'intera Europa, e sanno coloro che non hanno interesse a chiudere gli occhi al vero, che quel grido o quell'inno invocano non il disordine ma la sua fine, invocano giustizia, perché il nome del Gran Pontefice n'è divenuto sinonimo. E siccome vu è stato un tempo in Italia, e questo tempo non è, purtroppo, finito in ogni sua parte, nel quale il chiedere ordine e giustizia, era delitto da punirsi con la prigione, col patibolo o con la mitraglia, i popoli hanno cercato modo di presentare la medesima domanda facendosi scudo col nome del Pontefice, il quale così si è trovato scelto dagli afflitti quale rifugio e protettore, e certo nessuna scelta potea immaginarsi più gloriosa e degna del Vicario di Gesù Cristo. E sfido costoro a citare un sol caso nel quale il grido e l'inno di Pio IX si siano fatti segnale di disordini, o rivoluzione violenta. Chi vuole il disordine e spinge alla rivoluzione, sono quelli i quali, temendo la luce che scopre le opere loro, tentano persuadere al Pontefice che la via in che si è messo, è dannosa alla fede e dalla religione, mentre invece il senso religioso intiepidito e quasi assiderato per laddietro, perché il cattolicismo, fatto se setta politica, una cosa prometteva in parole, un'altra ne atteneva infatti, perché cattolicismo voleva dire dipendenza dallo straniero, sper per o della cosa pubblica. Commissioni speciali, gendarmi e spie, il senso religioso, dico, se ad un tratto riacceso, appunto perché, grazie a Pio IX, cattolicismo, papato, vuol dire ora indipendenza al di fuori, ordine, giustizia, onesta libertà in casa. Quella setta che per trent'anni ha travagliata l'Italia, ha interesse a confondere i termini, le cause, gli effetti, spezzar quel nuovo e santo vincolo che lega insieme popoli e principi, e dopo avere eccitato disordini, e tentate trame di violenza, visti falliti i primi disegni, ne tenta ora de nuovi più coperti, e vie più pericolosi, ed è dovere di tutti gridare allerta e mettersi in guardia contro essa. Popoli e principi ne sono minacciati egualmente. La loro concordia, sola tavola di salute all'Italia, potrebbe venir meno, ed in Roma è maggiore il pericolo, perché in Roma, come in luogo ovesta il palladio delle sorti italiane, più lavora e fa ogni suo potere tentando stillare nel santo ed illibato cuore di Pio il sospetto più atto a turbarlo, quello, non so saziarmi di ripeterlo, che il liberalismo italiano abbia amire avverse alla religione. Ma ugualmente ripeto, e non dobbiamo stancarci di dichiararlo, questa cosa è menzogna e pretta frode. Tra i liberali italiani, che sono non una setta, ma la moltitudine, come s'è veduto nelle dimostrazioni di Roma, Firenze, Genova e Torino, saranno uomini più o meno convinti in fatto di religione, e di tali se ne trovano non solo in ogni massa, ma in ogni ceto, e perfino nel clericale. Qualunque sia però la loro opinione personale, nessuno è avverso alla religione, e molto meno a disegni o stili contresa, e si può dimostrarlo in modo che non ammette dubbio o sospetto. La moltitudine è composta di credenti, di vacillanti o indifferenti, e di non credenti, i primi per coscienza e convincimento sono amici e fautori della religione, gli altri non le sono ostili, anzi la rispettano, e la promuovono, perché la religione, il papato, il clericato, non parlo della setta che vuol farsi credere una cosa sola con loro, sono alleati, sono forza necessaria al trionfo della causa italiana, perché si sono avveduti del grande errore commesso pel passato col inimicarsi il sacerdozio, e quella tanto numerosa e potente clientela che sta con lui. Perché conoscono qual'immensa potenza aggiunga all'Italia il pontificato, e l'autorità del suo grado, e certo non occorre gran perspicacia per conoscere, verbi grazia, che se gli austriaci non sono venuti avanti dopo l'occupazione di Ferrara, e se anzi l'hanno evacuata, ciò non è accaduto in virtù del campo di Forlì. Questi sono motivi senza replica, perché motivi di interesse, si aggiungono poi, e si verranno aggiungendo sempre più, motivi di coscienza, d'affetto e di convincimento, quanto più i non credenti o i vacillanti si faranno sicuri che la religione, il papato, è amico e protettore dell'indipendenza, dell'ordine, dell'onesta libertà, e non è per riporre nuovamente le sue forze a servigi di quella setta che fu cagione si smarrissero tutti questi beni, e perciò rese odiosa agli uomini la religione che scambiaron con essa. Per essa, pe suoi continui sforzi, per le sue frodi che non mai vengono meno, il pontificato è posto a rischio di perdere la luminosa occasione che gli è posta innanzi, la religione, di venir calunniata di nuovo come nemica all'indipendenza, alla libertà, e ad ogni viver civile. Ma la provvidenza ha troppo chiaramente mostrato che essa vuol salva l'Italia, essa ci salverà dalle costoro frodi. Se tale non fosse il suo disegno, ci avrebbe essa dato più nono. Sei queste linee furono scritte prima del fatto dei collegi irlandesi, e forse ora non sono più l'esatta espressione della verità. Non intendo entrare nella discussione dei rispettivi diritti, e mi contento d'esprimere il voto, senza dubbio egualmente sentito dagli uomini illuminati ed imparziali d'ambedue le nazioni, che queste differenze abbiano una saggia ed amichevole soluzione. Recente pubblicazione. Proposta ad un programma per l'opinione nazionale italiana, di Massimo D'Azzeglio. Un volumetto. Una lira italiana. Sotto il torchio. Delle nuove speranze d'Italia, presentimenti da un'opera di Niccolò Tommaseo. Firenze. Gennaio 1848. Nota di trascrizione I seguenti refusi sono stati corretti, P21R5, Immanuel Filiberto Emanuele Filiberto P30R11, che tale e che tale è sono state mantenute fedeli all'originale trascrizioni errate di parole e nomi stranieri come Neangrea, Josef Tatosefta, Juden Bureau, Württemberg Württemberg, così come l'incongruo 150.000 famiglie, circa 80,000 individui. Asterisco 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 end of the project Gutenberg ebook dell'emancipazione civile degli israeliti asterisco 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 updated editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from printed editions not protected by USA copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use a part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works to protect the project Gutenberg simbolo di marchio registrato concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away you made of practically anything in the United States with ebooks not protected by USA copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg simbolo di marchio registrato mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg simbolo di marchio registrato license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license. Section 1. General terms of use and redistributing project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of project Gutenberg. simbolo di marchio registrato electronic work, simbolo di marchio registrato electronic work, and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person 902 to whom you paid the fee as set force in paragraph 1.e.8 1.b project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work, even without complying with the full terms of this agreement. si paragraf 1.c below. there are a lot of things you can do with project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work, if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works. si paragraf 1.e.1.1.0.0.0 1.c the project Gutenberg Literary Archives Foundation, the Foundation Orpglaff, terms a compilation copyright in the collection of project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work.s. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg simbolo di marchio registrato license when you share it without charge with ATARs. Uno punto di the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. Gutenberg simbolo di marchio registrato work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. blijson among... Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. 1.1. The following sentence. with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato licensing must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg assimbolo di marchio registrato work. anywhere con which the phrase project gutenberg appears or with which the phrase project gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed copied or distributed this ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at in August and we almost no restrictions whatsoever you may copy it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the United States you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook 1.2 if an individual project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice in the cating that it is posted with permission of the copyright holder the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges if you are redistributing or providing access to a work with the phrase project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply it are with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark as set for in paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 if an individual project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is posted with the permission of the copyright holder your rose and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project gutenberg simbolo di marchio registrato license for all works is posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 do not handling cordy touch or remove the full project gutenberg simbolo di marchio registrato license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work 1.5 do not copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently displaying the sentence set for in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full in terms of the project gutenberg simbolo di marchio registrato license 1.6 you make convert to and distribute this work in any binary compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute copies of a project gutenberg simbolo di marchio registrato work in a format other than plain vanilla hash or other format used in the official version posted on the official project gutenberg simbolo di marchio registrato website www.gutenberg.org you must at no additional cost for your expense to the user provide a copy a means of exporting a copy or a means of obtaining a copy upon request of the work in its original plain vanilla hash or other form any alternate format must include the full project gutenberg simbolo di marchio registrato licences spesa file in paragraph 1.1 1.7 do not charge a fee for access to viewing displaying, displaying, performing, copying or distributing any project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project gutenberg simbolo di marchio registrato works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes the fees owed to the owner of the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark but he is agreed to donate royalties under this paragraph to the project gutenberg literary archive foundation calling royalties payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns royalty payments should be clearly marked la ssa and the same to the project gutenberg literary archive foundation at the address spesa fight in section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation you provide a full refund of any money paid by a 0 nota files you in writing or by email within 30 days of receipt the test e barra idas not agree to the terms of the full project gutenberg simbolo di marchio registrato license you must require such a user to return or destroy all capis of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other capis of project gutenberg simbolo di marchio registrato works you provide in accordance with paragraph 1.f.3 a full refund of any money paid for a work or a replacement copy if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work you comply with all other terms of disagreement for free distribution of project gutenberg simbolo di marchio registrato works 1.e.9 if you wish to charge of your distribute a project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work or group of works on different terms than our set force in disagreement you must obtain permission in writing from the project gutenberg literary archive foundation the manager of the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark contact the foundation asset force in section 3 below 1.f1.f.1 project gutenberg volunteers and employees x pen considerable effort to identify do copyright research on transcribe and prove free works not protected by us copyright lo in creating the project gutenberg simbolo di marchio registrato collection despite these efforts project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works and the medium on which they may be stored may contain defects such as but not limited to incomplete inaccurate or corrupt data transcription errors a copyright or other intellectual property infringement a defective or damaged disk or other medium a computer virus or computer codes that damage or cannot be read by your equipment 1.f.2 limited warranty disclaimer of damages except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3 the project gutenberg literary archive foundation the owner of the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark and any other party distributing a project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work under this agreement disclaim all liability to you for damages cost and expenses including legal fees you agreed that you ignore remedies for negligence strict liability breccio ferranti or breccio contract except those provided in paragraph 1.f.3 you agreed that the foundation the trademark owner and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual direct indirect consequential punitive or incidental damages even if you give a notice of the possibility of suck damage 1.f.3 limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work which in 90 days of receiving it you can receive a refund of the money if any you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium with your written explanation the person or entity that provided you with the defective work may elect to provide the replacement copy in l'uomo free fund if you received the work electronically the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in l'uomo if the second copy is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f.4 except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3 this work is provided to uss with no other branches of any kind express or implied including beauty not limited to brandies of merchant ability or fitness for any purpose 1.f.5 some states do not all disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages if any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable statelo the invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions 1.f.6 indemnity you agree to indemnify and hold the foundation the trademark owner any agent or employee of the foundation anyone providing copies of project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic quarks armless from all liability cost and expenses including legal fees that arise directly or indirectly from many of the following which you do or cause e to a care a.a.distribution of this or any project gutenberg simbolo di marchio registrato work b.a.alteration madafaction or additions or deletions to any project gutenberg simbolo di marchio registrato work and c.a.any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg simbolo di marchio registrato project gutenberg simbolo di marchio registrato is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete old mid-aged and new computers it exists because of the effort so fan drive soft valentiers and donations from people in all walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching project gutenberg simbolo di marchio registrato s goals and insuring dett the project gutenberg simbolo di marchio registrato collection will remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg simbolo di marchio registrato and future generations to learn more about the project gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archive foundation is a non-profit 501 c.3 education of the state of mississippi and granted tax exempt status by the tax exempt status by the internal revenue service the foundation san or federal tax identification number is 64-622-1541 can trabio chance to the project gutenberg literary archive foundation art tax deductible to the full extent permitted by us federal laws and your state s laws the foundation s business office is located at 809 north 1500 west salt lake city 884 116 801 596 1887 email contact link send up to date contact information can be found at the foundation s website and official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg simbolo di marchio di marchio registrato dipendous upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that cambi freely distributed in macchine and that is a double form form accessible by the wide wide as the wide of equipment including outdated equipment including outdated equipment many small donations unto dollar i5 dollar i5 a particularly important to maintain tax exempt status with drs The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org donate. While we can attend don't solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such state suo approcci stati uniti with of ours to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. O.S. Lo Salone Swamp or Small Staff. Please check the project Gutenberg webpages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number for the ways including checks, online payments and credit card donations. To donate. Please visit www.gutenberg.org donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato Electronic Works Professor Michael S. Art was the originator of the Project Gutenberg Simbolo di Marchio Registrato Simbolo di Marchio Registrato Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, i produced and distributed project Gutenberg Simbolo di marchio registrato e books with only a loose network of volunteer support. All of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which is the main pg search facility www.gutenberg.org This website includes information about Project Gutenberg Simbolo di Marchio Registrato, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.